Nei primi incontri avvicinati sul territorio, alle conferenze all'interno delle scuole. Queste sono alcune delle azioni facenti parte del progetto Chiuro Permeabile, sposato dall'intera comunità chiurasca per una gestione più oculata della risorsa idrica. Tra gli obiettivi primari, prevenzione e protezione dal rischio del geologico, oltre che utilizzo dell'acqua quale fonte di produzione attiva. Gli attori principali di questa azione saranno gli abitanti di Chiuro, chiamati all'appello per riscoprire un sapere tradizionale, spesso dimenticato. E allora si rivela di fondamentale importanza la presenza degli anziani, fonte inesauribile di storia e cultura. È un progetto attraverso il quale vogliamo riscoprire il rapporto che c'era tra l'acqua e il paese. Acqua intesa sia come canalizzazione, come energia da sfruttare per le attività artigianali, ma anche come acqua che scende da versanti e che attraversava un tempo il paese. È un rapporto che col tempo si è modificato, si è dimenticato, perché la natura ha cambiato il suo corso, la stessa urbanistica del paese è stata modificata. Però l'acqua era una parte importante all'interno del paese. L'intento è di coinvolgere le scuole, rendere partecipi i giovani, ma anche intervistare le persone di una certa età che hanno vissuto in prima persona quegli aspetti legati appunto alla storia del paese. E insieme a questi realizzare degli studi, documentazione storica, scientifica, tecnica, in modo tale che questo rapporto possa costituire una base storica del paese, ma sia anche la base sulla quale costruire un rapporto nuovo, identitario, tra il paese e l'acqua. Il progetto, sostenuto da più parti, è stato promosso dall'Associazione Culturale Opulo Onlus, in sinergia con il Comune e la Proloco Locale e cofinanziato da Fondazione Cariplo, attraverso il bando Comunità Resilienti 2017.